a sbrega fioi siamo tornati oggi col terzo episodio di lifestyle qui sul canale youtube stasera appuntamento amazon music itt canale twitch vi aspetto per il quarto episodio sempre con mio padre cosimo fini guepecchegno a sbrega vi chiedo un like di supporto se vi piace e si continua a piacere il format che vedo molto apprezzato da voi e mi fa molto piacere questa cosa vi lascio il video ben amori e a sbrega buonasera buonasera a tutti i signori miei cari fioi benvenuti l'ultima puntata è stata paccata perché massio è andato a centro a san morizio mi risulta mai comunque è paccato ho paccato perché stavo male per non infettare il team e te sono rimasto a casa io sono immune sono bulletproof sei bulletproof tante volte hanno sparato nella vita e 17 18 madonna e sei ancora qui cazzo madonna incredibile partiamo allora partiamo subito prima però sai cosa dici una curiosità che forse ti potrebbe interessare parlando di grattate come sempre il nostro amico morgan freeman no io te l'ho detto che ha fatto turkish airlines aspetta aspetta tu hai detto questo io ti do un'altra chicca sentiamo allora avevano fatto il dominio morgan freeman.com ok lui ha fatto causa ovviamente ha vinto la causa ha vinto la causa e per non farsi per non farsi mancare niente ha messo il copyright sul suo nome a piove sempre sul bagnato non si può in italia mettere il copyright non lo so questo è come se fosse un brand no come se fosse un brand sono proprio degli stronzi ma perché non possiamo mai fare le figate non lo so se tutte le cose fighe in italia non possiamo farle che non lo so vabbè ma a proposito di cose di cose fighe partiamo dalla fimi vediamo le nuove fimi le nuove le nuove entrate in classifica se ce ne sono di nuove entrate perché ce ne sono anche fioi numero 10 abbiamo rosaline di cui ignoravo l'esistenza e comunque vivevo tranquillamente non l'ho ascoltata onesto non l'ha ascoltata non l'ho ascoltata spiego io grazie mi è stato detto da fonti superiori che è una cantante che ha vinto l'eurovision ha partecipato ha partecipato non ha vinto ha partecipato non ha vinto e fa una musica pop molto generica però ha 300 milioni di streaming questo pezzo il sospetto un tiktok per essere un film in italia ha detto che sia un trend si è dopata da un trend vabbè però vattene ascoltare se vuoi perdere 5 minuti 5 è dura eh sì perché è lunga si adesso sono due minuti i pezzi si adesso proseguiamo 20 e mezzo queste cose proseguiamo allora giovani che abbiamo già dato abbiamo già dato anche con la teoria delle onde magnetiche che ha fatto il giro i love you con coitz ok onde magnetiche ma abbiamo la prima nuova entrata la prima nuova entrata molto rap ci tengo a sapere a sapere il tuo parere non l'ho ascoltata la prossima volta non venire scusa stai malattia di più al numero 7 abbiamo questa unione napoli milano puro sangue puro sangue com'è com'è descrivicela descrivo è un beat possiamo avere il testo così capisco anch'io e dai vuoi fare una parafrasi io una parafrasi la farei allora è un beat definibile trap ok come un beat di tendenza si forte e secondo me c'è una cosa interessante questo pezzo che luke fa questa battuta su alexa no cioè lui chiede ad alexa quanti soldi ha è una cosa molto rap e mi pare di aver capito che questa cosa si è diventata poi un trend un trend ok e che quindi sicuramente ha aiutato il pezzo perché mi ha stupito e mi fa piacere che questo pezzo che sia al fine molto non è neanche un ritornello sembra no quindi proprio si scambiano no si è entrato in film quindi bella lì no ok allora eccolo qua il testo vabbè yeah yeah milano classico però vorrei che lo decantassi con il tono giusto ok si segnano i quaderni con i conti del mio hermano se i conti non li regoli poi gli altri lo faranno occhio eh sì avevo 100 debiti ma 100.000 in mano ok i miei fra sono puro sangue ok sti polsi sono gelidi perché siamo a milano ok sono ancora più gelidi se indosso due bus down ok si sto vedendo i demoni perché ho un destino amaro ok ok alexa dimmi quanto in banca ok ok eccolo ecco diciamo che è un pezzo ok bella raga ok ci sta ci sta abbiamo capito il contesto concetto sì concetto flex in questa roba a noi ci piace sì sì io non sono io flexo tu flexi anche con una mano sola sì con la battito di mano sì proseguiamo questo è fantastico allora questo è a questo è momento sancisce una pace storica no pace sì tre non so bene perché è quale sia stato il litigio ma penso che siano un po' litigato un po' con tutti quindi si è trovato a dover fare pace con tutti stiamo parlando della traccia alla posizione numero 6 viola fedez e salmo che è una combo un po' particolare molto inusuale no direi di sì ecco senti ci tengo visto che tu comunque un po' vieni dall'elettronica dal rock sì sì cosa cosa pensi di questo pezzo parlando anche da uno che ha un background un po' rock no questo un po' punk punk rock no punk rock che mi guardi così no ti sto ascoltando quel punk rock pop alla green day alla blink che penso siano il gruppo preferito di finley è un po' finley 2.0 vabbè parto con il testo vediamo un po' io vabbè saluto ho da fare scusate perché ma perché cosa vuol dire stiamo solo cerco di non pensare al giorno che ti ho dato le chiavi cerco di non pensare al sesso ma tu cambi i miei piani ma che cosa te ne fai dei fogli di viola è qua è qua c'è un contratto eh no al contrario cosa te ne fai dei soldi di viola capito è un deflex è un deflex interessante oh 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 che è un pokemon se poi li spendi da sola ah no se poi li spendi da sola ah hai capito quindi lui chiede soldi a lei non capisco può essere è bello però non ha tutti i torti scusa io ho sempre chiesto a me me li hanno sempre chiesti a me e invece è giusto giusto mi sembra ottimo vabbè se si scende cosa ci prende ma ci scende cosa se ci scende non lo so non ne ho idea certi baci non sanno di niente sto cercando disperatamente nella notte più lunga di sempre vabbè non è male comunque mamma però non mi dire di no nudi subito nudi subito meglio di noi non esiste non può vieni subito vieni subito ci vuole un anno per capirti eh più mal di testa che vestiti da un po' non mi dà lo stesso gusto di tu che decanti però la staffa di sciva sai perché questa è già in prosa non so come dirsi hai capito si è un po' più vabbè proseguiamo con la film dai tanto abbiamo già detto quello che c'era da dire non è più successo niente poi dopo abbiamo sempre il nostro da sup che continua a a spaccare a spaccare a comandare tutti i so i under 14 d'italia ma ancora con sta storia secondo me è l'esercito di si vogliamo vedere entro natale cosa succederà io metti che avrà avrà con le con la musica avrà avrà ipnotizzato e addestrato tutti questi bambini bambini bimbì soldato come nigeria e si ricordi boxing fico di merda era ancora la lista dei beatles sono pentate fantastico no hai visto che hai visto che la di rupa dei si visto che la cassis temana schien ha avuto questo questo problema che là pure la repubblica ne ha parlato che che da questo Gravissima Ma Di Ziz Che ha paura di uscire Ha paura di uscire Alla FOMO Alla FOMO La FOMO Che praticamente Anche se stanca Deve uscire Un problema molto attuale No non penso che Se sia stanca Deve uscire Non era quella Eh sì La sindrome Cioè ha paura Di perdersi qualcosa Cioè ha paura di perdersi I momenti Capito Come per dire Io anch'io Sarei stato volentieri a casa Ma sono venuto qua A fare Hai capito Ho paura di perdere qualcosa Tra cui Di perdermi il momento Di oggi Tra cui queste notizie Incredibili Di cui non ci si può fare a meno Esatto Perché ormai Non possiamo più farlo a meno Ma andiamo oltre Dai Di questa puntata Che è iniziata spumeggiantemente Vuoi fare tu? Fai tu Faccio io Eccoci qua Hai visto? Abbiamo Top 5 Sì Ecco Ci sono delle novità Su questa top 5 Sì Sentiamole Abbiamo Grodi E Spinelli Cosa stai dicendo? No niente Stavo facendo i miei ragionamenti Il fatto è che Il discorso è che ci sono poche New entry infimi Quindi No non c'è Allora Anche volendo dire tutte le cazzate del mondo Non potevamo parlare tutto il tempo No ma abbiamo sette brani No quanti? Sette brani che sono sempre gli stessi Non possiamo sempre parlare sempre degli stessi Quindi Possiamo pensare Di parlare della musica che verrà No Sì Ok quindi per esempio Questo che so che non è il tuo genere No Drake e 21 Savage 21 Savage Che è il rap Grattato Morgan Freeman Perfetto Non ti piace né Drake Qualche canzone la conosco Ma non sono fan Quelle più di bocca buona Quelle che conoscono tutti Sì Quelle più popolari Immagino Poi non mi ricordo manco i titoli Onestamente Va bene Allora hanno annunciato un disco Che si chiama Hair Loss Ok Cioè la sua perdita La sua perdita Di lei Ok Ecco Doveva uscire Il titolo un po' Ma ci Dici Ecco Infatti tuoi La sua È lei che soffre Mi sembra di interpretarlo così Dici così Secondo me è un po' Visto gli elementi Per me sì Ah sì Però non lo so Quindi dico Tu mi hai perso Quindi sono cazzi tuoi Esatto È proprio così Poi vediamo quando è uscito L'ascoltiamo L'ascoltiamo e vediamo Ok Che doveva uscire il 28 di ottobre Ma il produttore ha preso il covid E hanno posticipato al 4 novembre Cosa strana Non capisco perché Non potevano isolarlo in studio E cioè mi sembra un po' De cazzare Questa è una scusa a me Secondo me Ma potevano fare Non lo so Tanto l'ingegner Doveva mixare Poteva rimanere chiuso in studio Perché aveva il covid Ma quindi dovevano fare la festa E ridi gli sparti E quindi lui doveva venire Non ho capito È una scusa Secondo me hanno fatto festa E non sono riuscito a finire A finire il tempo Dici Hanno preso del tempo Per finire le tracce Sì Secondo me sa Tanto di progetto Sono progetti che in America Fanno molto velocemente Sono questi Drake l'aveva già fatto Con Future Si capiva che è proprio Un disco fatto Un po' la cazzo di cazzo Adesso voglio dire Che poi mi insultano Mi piacciono sia Drake Che Future Però sono progetti Che noi magari in Europa Avevamo molto più cura Anche se scendesse Con tante merdate Mentre loro proprio se ne sbattono Cioè vanno in studio Capito Quello che viene fuori Sanno che tanto capitalizza Ok Dunque a proposito di culto E di top five o top tre Eccoci Vogliamo tutti Tutti vogliono sapere I tuoi album preferiti Perché sei misterioso Io non sono misterioso La gente mi attribuisce Siccome c'è questa cosa Che io vengo visto Con artisti Tec Piuttosto Cernia Piuttosto Ecco Che tu sei un rapper Che io sappia di rap Ma io non so un cazzo Io di pop e rap Non sai un cazzo di niente Ma non ho mai detto di saperlo È quello Ma è il bello Che la gente crede Sai Io non ho mai detto Che so di rap Io ho detto Guarda Ti dico come ho iniziato A ascoltare Un po' di scena italiana Sì Ernia Nel 2018 Mi tagga Mi tagga in una storia Ripetendo una mia frase celebre Che era Sono incredibile No 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 Non è quella Non è quella Non è no No perché pensavo che era l'altro No non era l'altro E io da lì ho detto Non so chi sia questa persona Vado a informarmi su cosa fa Mi sono ascoltato Perché tu prima eri sull'elettronica Io ero sull'elettronica Dici un album Che ti piace Allora Se devo andare indietro indietro Io partirei Uno che mi piace veramente tanto Che mi ha segnato Mesmerized Dei System of Adam Che piacciono anche a me di brutto Quello a me piace un botto Che System of Adam Sono un po' crossover Comunque Cioè Come Cioè nel senso Non è Come dirti Non è proprio strettamente metal O strettamente Mi segui È un po' Sì 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 Fatti un gruppo che ha ascoltato anche tanto Da tanti In realtà Non è di nicchia No 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 Capito Sì Boh a me piace Se ad esempio Secondo me Traccia preferita dell'album È quella Ma lo riascolterò Perché È un gruppo che spacca Sì È veramente Sono veramente Ci sono tante belle tracce In quell'album là E basta Un altro A memoria Un altro che ho ascoltato di brutto Durante l'adolescenza Io vado sull'elettronico E vado con Skrillex Scary Monsters E Nice Price Esatto Da Upstep Che partita Che secondo me era figo Cioè come ogni fenomeno nuovo Era figo Però tutto il cazzo Quando diventa Sì diventa È massificato È prodotto tipo in catena No Ok Però io che sono più vecchio Ho assistito tanti di questi Cambiamenti Certo Sì per esempio Quando ero più giovane C'era stata la Two Step Che era una figata Quando era uscita Era una figata Poi dopo ha rotto subito Il coglione Anche secondo me Anche secondo me Anche la Dubstep Per quel Che è come il basso Della Drill Dopo un po' Inevitabilmente Ti rompe i coglioni È impossibile È ripetitivo E quindi deve rinnovarsi Sì Ho capito Va bene E poi si passa Tutta una serie di artisti Che vanno da Penso dopo Hardwell Hardwell Tutta roba Edm Poi sono passata Alla Tecno Quindi io ho quel Mastico di quella roba là Non dell'hip hop Onesto Tanto salutiamo la chat Leggo delle domande Veramente confini della realtà Ma il bello è questo No non le voglio ripetere Una Come sei stato in Calabria Come Eh vabbè È una domanda Proprio esistenziale Ma come cazzo Che domanda del cazzo è Ma come sei stato in Calabria Va bene Ho mangiato bene Ho preso il sole Ho rilassato Cioè devo dire Come sei stato in Alaska Cioè in Calabria In Alaska Calabria in Italia Freddo Bolo Come sei stato anche bene Ho mangiato bene Sono stato bene Ecco Calabria Va bene dai Passiamo alla nostra rubrica preferita Perché Abbiamo stato anche troppo seri Ce l'abbiamo Vai Eccoci qua Ecco non vedo l'ora A sbrega fiore Di dire stronzate Vedi Oh eccolo Eccolo Non vedo l'ora Oh Questo Allora Vai Allora Facciamo questa premessa Che di solito Questa puntata Abbiamo avuto Veramente l'imbarazzo Della scelta Sì Piene di notizie E' pieno E' decretare il vero king E' stato difficile E' stato difficile Allora Io ti dico il mio Il mio personale È quest'uomo Che è rimasto Rimasto anonimo Per ovvi motivi Che vince Trenta milioni di euro Sì Alla lotteria in Cina E si presenta Per mantenerlo anonimato Vestito Andrebbe fatto vedere Non so se si può Con un vestito giallo Cioè Era un pulcino Una mascotte pulcino Esatto Ma dalla testa ai piedi Cioè Non è che Non con la mano Non con la maschera Testa a piedi E' una sorta di tuta Impermeabile Che lui Trafigura questo pulcino E lui è andato così E' tutto appunto mascherato E la hit Che lo rende Secondo me Il genio Della settimana E' che lui Ha nascosto Questa Ingenti Ingentità Alla moglie E il figlio Giustamente Dicendo Li renderebbe pigri Però E' un eroe Per me No ma è un genio E' un eroe E' un genio moderno Ma poi te la ti vai Anche a tutelare Sai magari Vuoi fare un po' Il tirchio E sti arrivano gli amici Hai vinto 30 milioni Dammi un Dammi uno Dammi uno Dammi ne due E quindi Tu amori di tuo figlio Sei proprio Il re del male Lo dice Perché sennò Diventerebbero Troppo pigri E' giusto Perché sennò Si siano sugli allori Invece stai No? Invece si danno da fare Se non lo sanno Si danno da fare E' giusto Proseguiamo? Si proseguiamo Anche Eh beh Questa è Questa è Vabbè Memo Remigi Ecco Attenzione Non entriamo in un ginepraio Cerchiamo di Sì Fido a te Io Guarda Dico Speriamo cosa è successo Secondo me Il signore si sente ancora Negli anni d'oro Della sua carriera E quindi Dove poteva grabbare Hai capito Dove poteva grabbare cose Senza Una volta Ripercussioni Adesso Adesso giustamente Se nel 2022 Ti devi dare Tra l'altro Ha palpato la tipa De Gazzosa Ti ricordi De Gazzosa No Troppo piccolo Troppo Sono un gruppo Teen Ok Rock Dalle sonorità simili Al pezzo Che abbiamo Scrivete Sgazzosa Vabbè Che famosi Sei proprio una merda Famosi per La hit VVV Mi piaci tu VVV Mi piaci tu Era quella Era quella De Gazzosa Era De Gazzosa E la cantante Che Quanto pare Si sente fissa Di questo programma In Rai Ok Spieghiamo Che successe Del signor Memore Migi Dicendo Adducendo la scusa Di sistemarle L'ermontor E dargli una pacca Io invece ho visto Che ha proprio Grabbato Ha grabbato Secondo me non ha dato Una pacca Un po' blitzcrank Però spieghiamo Perché è un mito Cosa cosa ha fatto Lui Invece di dire Scusate Invece di scusarsi Fa No ma La mia età Prendere una batosta Una batosta a livello mentale Così è veramente pesante Dovete Assumiamo noi Assumiamolo noi Lascia perdere In mezzo Ecco Quindi l'ha fatto C'è stato Bannato Da Rai Ma lui a sua volta Il provvedimento Era troppo duro Perché Ha detto Eh no ma Dai Era una cosa Non mi sembra Così grave E invece Sì amico mio Non puoi grabbare culi A tuo piacimento Perché sennò Succedono cose brutte Bellissimo È una notizia C'è quelli di spazi tirchi Che anche questo è bello Spazi tirchi Che prendono La grandissima location In America Incredibile Bellissima Dov'è che erano In mezzo Al vigneto Hanno speso tutto Per la location E per Diciamo Il contesto Eh E poi hanno dato Mi sa di fake news Ma è vera È vera È vera Non hanno fatto Un passaporto Io onestamente Sarei andato via Sì Cioè hai preso Lala E non spendi Quei due soldi In più Per un vino Fanno bere Almeno Almeno una cosa Il succo Frizzante All'uva L'hanno servito L'imonata E tipo E boh Altre cazzate Vabbè Vedi Niente a che vedere Con i primi due geni Però direi Terzo Non è tanto Proseguiamo Perché ce ne sono parecchi Ah questo Questo pane Per i tuoi denti Oh cazzo Questa lo leggo Quasi tutta Dai Allora Sidney Watson Che non ho idea E non ho mai visto Un suo video Sarà una tiktoker La tua categoria preferita No 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 Youtuber Americana Con 770.000 follower Si è lamentata Con un twitter E da twitter Nascono tutte le Capolate Le polemiche Ma sai perché Perché twitter Non ha filto No non è quello È che hai poche parole Per spiegarti Quindi di solito Se non sai spiegarti In poche parole La prendi sempre Nel culo Praticamente Su un volo Di american airlines Si è ritrovata In mezzo A due persone Estremamente sovrappeso Si Ok E ha chiesto Il rimborso Del biglietto Alla compagnia Che ha risposto La compagnia Ha risposto Su twitter Si ma noi Accettiamo Qualsiasi Passeggero Di forma Misura Cazzo e mazzi Giustamente E intanto Sui social L'hanno Completamente Massacrata La tipa Giustamente Ma che cazzo Di dichiarazione E poi Su youtube Ha fatto anche Un video Dove invita La compagnia Aerea A farsi vivi Per avere Un accordo Su questa roba Come quella Dell'armadio Ti ricordi Però peggio Però peggio Esatto Perché non sei manco Resa conto Dell'errore Hai capito Più che altro Tu sei un influencer Abbastanza Famosa Non rompere i coglioni Fatti pagare il biglietto Vai La prossima rubrica Che è anche questa Vai Che bello Il tuo sticker Chi se ne frega Via Questa per me è il top Parlando sempre di twitter Questo è il top Questo Vuoi spiegarci bene Vai Moglie di Chance the Rapper Come the Rapper Per me è più Vabbè Io ho visto È uno dei miei rappers preferiti In assoluto Non l'avevo mai visto in faccia Se tu l'avevi visto Faccia la babbo Il re dei babbi Il re dei babbi Infatti guarda cosa fa Il re dei babbi La moglie Incredibilmente brutto Babbo Praticamente si esprime Vai Però guarda cosa ha fatto Vai Sì Infatti devo fare la premessa Dimmi Dimmi Vai Allora So qua Ti devi sapere questa perla Allora lui Ha fatto un album Uno degli album Che è più stato Non tanto criticato male Però Ha fatto tanto parlare Perché ha fatto questo album Lunghissimo Inutile In cui Giuro Inutile Ok Tutto l'album parla del suo matrimonio Giuro Tutto l'album parla del suo matrimonio Tutto l'album Non so se è l'ultimo Il penultimo Parla di quanto è bello il suo matrimonio Di che bella esperienza È il matrimonio con sua moglie E mi confermano che è così Ed è una veramente E lui ha fatto questa qui La premessa La premessa che lui Questo artista ha fatto Un album che parla tutto Di sua moglie E del matrimonio Di quanto è stato bello sposarsi Va bene Con la luce di questo Racconta cosa è successo Ma quindi Cioè scusa Vabbè che bella vita Ecco La moglie La moglie A cui è dedicato un album intero Sì Tutti i pezzi È un concept album Che parla di questo Sul matrimonio Sì Cioè non va Vabbè Ma scusa Su ogni fase del matrimonio Cosa vuol dire Cioè la cerimonia Non so Però è così Praticamente questo qui Su Twitter Ha messo Un like No Ecco Che ha un tweet Che promuoveva Un porno trans Quindi non un semplice porno Ecco Che è diventato subito Trend Non un semplice porno Un porno trans Oh ma è uno Ha i propri gusti No 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 Ma non dico niente Dico Assolutamente Particolare Nel senso Sì beh certo Una figura di merda Secondo me è anche maggiore Perché sai Porno normale Porno trans No ma Tutto il rispetto Però denota Che cerchi Qualcosa in più Vabbè ci sta Ci sta Ci sta Dico Bella figura di merda Voglio dire Un po' di sorpresa Ma secondo me Un porno trans Quindi è stato subito Sgamato malamente Mai Subito Subito Sul porno dice L'industria negli United States È legale sul porno Quindi Sti gran cazzi La moglie però Secondo me La moglie però Se l'è presa No perché ha detto Ah ma E quindi Ha detto che Ha messo il like Per sbaglio Se qua è lusingata Dall'album Su di lei Tu dici che uno sbaglia Può anche essere Magari scorrendo Sbagli Ma tra tutti i sbagli Lo metti proprio Però Boh Perché inventarsi Una scusa Del cazzo Del genere Lui è la mia solidarietà Perché io Spesso Non essendo proprio Un grande king Di come usare Di come usare i social Come usare i telefonini Insomma Si sa Questo Per il futanari Cioè Non lo disegno Anche a me Non è interessa Però Io purtroppo Non so Io per dirti Ero uno che Pensava Ingenuamente Dico vabbè Io metto il like A tre tipe E poi metto Un like A un gattino Uno a un national geographic Uno a un sito di tramonti Non funziona Non funziona così Oppure dico Metto un like Alle 5 del mattino Lì peggio ancora Perché c'è scritto Alle ore Gli è piacciono No 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 Quindi l'orario Una volta Una volta Era proprio In farmi fratici Una volta Tu mettevi like Alle cose Pur di rovinare La vita della gente Capito E veniva nel feed Pechegno Mi ha messo like A questo post Alle ore A questo A questo A quest'altro Ok Adesso l'hanno tolto Però comunque In home Se tu scorri L'home di instagram Vengono fuori Dei post Di magari Di gente Che tu segui A cui loro Hanno messo like Capito L'unica soluzione Qua è togliere Il tele Cioè L'unica soluzione È togliere Mettere il telefono Basta salvare il post Ah già Quanti trick Che sai Allora Ciacca Can Intervistato a Page Six Parla della musica Di oggi Si scaglia Contro Chiusa Tutti Cioè Tutti Poveria Un po' rimasta Beh Consiglia a tutti Questi cantanti Di cambiare mestiere E gli invita A fare domande Alle post Che tanto lì C'è sempre bisogno Che mito Testuali parole Parliamo di un mito Sicuramente È una signora Che anche Ha una certa età E anche Magari bisogno Di far parlare Di sé Così Però ti dico Secondo me Non ha tutti i torti Nel senso che Non puoi scagliarti Contro chi usa L'autotune Perché lo usano tutti Però secondo me Bisogna anche usarlo bene Perché non è Immediata La cosa Capito Devi Comunque Ci sono degli artisti Per esempio Che la cui voce Suona benissimo Con l'autotune Capito Fanno quel genere Di altri Invece altre volte Non funziona Non sta bene Con tutto Là ci vuole Presumo Parlando da ignorante Anche un esperto Guarda Giusto Una minima nozione Di note Ingegneria del suono No Ingegneria del suono Sì anche Adesso non usare Qualunque bambino Non lo so Io chiedo Da ignorante Chiedo No ma che cazzo Ho sbagliato Che furi di merda Ho sbagliato Ho sbagliato Capita Via Ecco Ecco Intermedias Verrai mai in Calabria Ancora si torna In Calabria Tu devi capire Che la Calabria È una location In Italia Ultra gettonata Sì Sì Per il genere Sì Io faccio 100 serate in Calabria Sono molto richiesto in Calabria Addirittura ti racconto una hit Vai Quest'estate ho fatto un set in Calabria Da un mio caro amico Che saluto Ciccio bevi l'acqua Il quale durante il mio set Ha come un vaso Il mio show Senza chiedere Il proprietario Sì E ha preso il microfono E ha urlato La Calabria ti ama Ho vissuto questa esperienza stupenda Quindi spero di ripeterla Presto Detto questo Detto questo Qui fanno tante domande Repettone Che a te giustamente Non te ne frega un cazzo Scusa Non si chiama Chiedi alla Masteo Si chiama Chiedilo a Guè Allora È veloce È veloce L'album con Marra in Giappone Quando lo fai Perché in Giappone Una fantasia Questa è un'entai Ah Marra in Giappone Non lo so Potrebbe essere una trama interessante Questo secondo me È il king della chat Caro Guè Cosa pensi del Masteo Ma Tao Toschi Ma che domanda Ma come fai a fare una domanda Così stronza Ma che cazzo No Boh Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so Pensa che sia stronzo Qualcosa Ne pensi di Shade Shade è la mia cantante preferita Questa sarà uno Che ha fatto la domanda Perché già sa Sai Quindi voleva Voleva essere un po' Un po' Un primo Ah dici Un po' A banco anteriore Take off Take off ragazzi È una tragedia Purtroppo In America C'è questo problema Delle armi Ma che in realtà È una È una piaga Purtroppo Tra l'altro Lui poverino Era un Mega Tranquillo Uno che ha detto Quattro parole In vita sua Super simpaticone Super E non era neanche lui Che doveva Perché non si è sparato A caso Lì purtroppo Sai Vorrei Tele vacante E ci dispiace tantissimo Purtroppo Il fatto è che In America Adesso io Con tutto il bene Ma Cioè Su ste robe qua Sono proprio indietro Perché se tu Vieni in Svizzera La Svizzera È un paese Che ha Se non erro Uno dei più alti Armi per cittadino Sì sì Del mondo E da noi Non succede mai Niente Com'è sta storia È vero È una cosa Un discorso culturale Ci sono le gang Eh ho capito Però che sbò In due anni Sono morte Disparatorie Tutti Perché devi pensare Che il problema Il problema di là È che ci sono tante armi In più Si è degenerata la situazione Come in tutto il mondo Perché non è che L'Europa Noi stiamo andando Stiamo andando Tutti in una direzione Sì senza armi Ma stiamo andando tutti In quella direzione Della violenza Sai secondo me Tra il covid Tra tutto Si è un po' Andati tutto Tutto a degenerare Un po' Come questa chat Eccoci qua Mi chiedono Che ora torni a casa Le tue serate Ma che domani Dipende Dipende Dalla serata Immagino Hai mai visto Evangelion? Sì ma tu sicuramente Sei più nerd Anzi ti dico di più Anzi ti dico di più Di Ako 1717 Non solo l'ho visto Ma in Giappone L'ho pilotato Hai pilotato? Io ho pilotato Evangelion In un gioco 3D Fantastico Dove Correvi per la città Su un Evangelion E poi ti scassavi Di botte Un altro Il più unico problema È che questo tipo Di giochi in 3D Purtroppo Hanno una legge Non so se tu Sei mai stato In Universal Studios Sai queste giostre In 3D Che le fanno Basate sui film O sui manga Praticamente Non ti fanno stare Più di 15 minuti Perché potresti avere Problemi epilettrici Ah motion sickness Quelle robe là Io sarei stato un oro Pilotato Gundam Di tutto Tutto Avevano fatto Anche una bella Adesso non mi ricordo Il brand Avevano fatto Una collaborazione Con Evangelion Avevano droppato Dei Dei Ah una roba Di vestizi Stupendi Una cosa Tipo Supreme Tipo Supreme Ma non Supreme Sì non mi ricordo Quale fosse Una cosa del genere Avevano fatto Questa collaborazione Era fantastica Vabbè Un lucky Canzone preferita Del 2007 Ma che vuol dire È veramente Del 2007 Ma perché hai il cappello Ti stanno cadendo i capelli Questa penso Che è la domanda Più stupida Inutile Che abbia mai Sentito Nella storia Del mondo Complimenti Banoz Hai vinto Questo premio Ma che domanda è L'asio Alla settimana Vabbè Io direi che abbiamo già Siamo stati anche Abbastanza democratici Democratici Andiamo avanti Allora Via Mi piace Non mi piace Bello dire Cerca di essere Di essere clemente Ma sì no Torneremo a leggerli dopo Allora Easy peasy Io già ho abbastanza problemi Abbastanza controversi Se a me mi butti In questo In questo Ginepraio E farlo tu Posso fare io? Sì Faccio io allora Mark Sposa Tiffany Ok Mamma single Ti avvengono i brividi Sai Mamma single Con figlia di tre anni Il matrimonio va benissimo Hanno un figlio insieme E poi Mark A un certo punto Decide Che vuole il divorzio Da sta Tiffany Perfetto Perché? Perché si innamora Di una nuova ragazza Che è la figlia di Tiffany Cioè la sua figliastra E quando La figliastra Ha compiuto 18 anni Mark lascia Tiffany E va a vivere con la figliastra Che diventa poi La sua nuova compagna E poi dopo quattro anni Che sono stati insieme Hanno avuto Anche due figli Horror No questa è la legge Della maniglia La conosci? No Prima la madre E poi la figlia Immaginavo Eh vabbè Io non ho detto niente A proposito Ma si ride Assolutamente Che cazzo Di problemi hai? Questa secondo me Allora Diciamo che però Gli diamo un non mi piace A quella La prima notizia No vabbè Sì è ovvio Ma che cazzo Tu hai messo mi piace No io non ho messo No 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 Mettermi in bocca Parole che non ho mai detto Va bene Ma vabbè Ok Questa filone creepy Questa a me È una roba che mi sta un po' Ma per me non mi piace Questa cosa qua Vai Te la riassumo Sì Eh questa cosa Allora Parlando di Jeffrey Dahmer No che Spopolato Sì però Diciamo una cosa Allora secondo me La fiction Cioè come fattura Come fotografia Come regia Ci sono anche dei Gli episodi che sono girati Dalla figlia di David Lynch L'autore Quello di American Horror Story Cioè è una cosa Quanto ai miliardi Ok Si sta stirando i soldi In questo Anzi a qualche Qualcuno li stira per lui In una cantina No È molto forte È molto Però adesso Senza No come dire Vabbè Una serie Un film che rappresenta Una cosa Brutta Ok O fa una bio Una bio Di un personaggio negativo Ecco Ecco la cosa trash Secondo me Che ovviamente Poi è incontrollabile Diventa una cosa demenziale È poi Appunto Non l'emulazione Ma l'adulazione Secondo me Di questi personaggi Sì però è modo demenziale Quindi Capisco che la gente Mi ha sbatto un cazzo Però Sai il costume di Halloween Diventa Cioè poi esagerando Secondo me diventa un po' No Non so come dirti È un po' sgradevole Anche perché comunque Tu non so se hai visto la serie No non ho visto ancora la serie Non ho avuto l'occasione Ripercorrendo un po' Tutto quello Leggessi questo personaggio Conosco il caso È veramente una merda Cioè È meglio Chiunque È meglio Quindi lì si parla Di questo Questa pizza Con le budella Poi a me Lo splatter Così Non mi attizza Ok C'è questo pazzo Che Tipo un collezionista Sì Che aveva Che ci sono questi matti qua Su questi Che aveva una serie di oggetti Tra cui Lui sa che ha questi occhialini Da creep No Ok Quelli da vista Un po' vinta Ok Pare che ci sia Questo qua Che aveva quegli occhiali veri Che lui va sempre E li ha venduti a 250k Ah Quindi Pensa il genio Che li ha comprati Sì perché C'è una scena Anche nella sera In cui lui proprio compra Una serie di cianfrusaglie Pensa quel genio Che li ha presi E poi capito 20 anni dopo Un altro col pazzo Li ha presi Comunque avere 250k Avete pilati occhiali A Jeffrey Dahmer Boh Occhiali di Jeffrey Dahmer Non è che stai parlando È anche un po' Un po' Un po' pauroso Eh Boh Non lo so Vabbè Parliamo di questo inizio Che è stupenda Incredibile Quadro Quadro In Museo D'arte moderna E contemporanea Di Usseldorf Incredibile Eccezionale Dove si sono accorti Gli geni Che hanno appeso Una Cazzo di opera Di Mondrian Per 77 anni Sto quadro È stato appeso Al contrario Pazzesco 77 anni E non se ne è accorto Nessuno Nessuno Però sai che cosa Che per 77 anni Tu non puoi neanche Incolpare qualcuno Non puoi dire Non so C'è un addetto Che ha sbagliato Perché 77 anni Già hai perseverato Nell'errore Cioè sì infatti Cioè nessuno Se ne è accorto Però non so Perché io Onestamente non so Dovrei vedere il quadro Bisognerebbe vedere il quadro Perché vabbè Però no Però vedi È una roba stratta Quindi sai È realizzato con nastri Dezichi rossi Gialli Neri Sì ma infatti Dicono che non possono più Appenderlo In maniera corretta Perché ormai Perché si sono staccati Questi nastrini E se lo appendono È giusto Il quadro E il quadro viene giù E quindi Per non danneggiare Ulteriormente È stata una curatrice Sconsigliata In modo corretto Eh sì Per non danneggiare L'opera ulteriormente Non possono neanche Metterla corretta È bellissimo Incredibile Che poi Questa roba qua Se ne ha accorto L'anno scorso Prima di oggi Se ne ha accorto Un artista italiano E ha denunciato Francesco Visalli Visalli Che occhio Francesco Visalli Un grande Un grande Italiani Sempre prima degli altri Quella notizia ci piace No questa è bella Come cavolo Vanno a fare tutti I critici Le cose Vedono il quadro Al contrario Ah bello Poi al contrario Per 77 anni Bellissimo Prossimo Allora Ah beh Renegade Piragna Incredibile Spacca come una date Sì bellissimo È praticamente La rollatrice Personale Di canne Di Snoop Di Snoop Dog Sì che lui Aveva venuto a Cerco Ti ricordi Che c'era sta news Che girava Che diceva Cerco Ma tanti di questi rapper americani Cercano questa figura qua Cioè il rollatrice Vabbè da loro Wiz Khalifa Erano tutti questi Grandi fumatori Grandi fumatori Quindi non hanno voglia E assumono qualcuno Per farlo Giustamente Vabbè Ci sta Se ho i soldi Lo faccio 75 È comodo Praticamente La signorina Ha dichiarato In un programma Radiofonico Che con Snoop Dog Rolla tra le 75 Le 150 Canne Al giorno Però Impossibile Dice che non sono tutte per lui Penso anche per le Tourage I cazzi mazzi Vorrei vedere Eh vabbè Gran fumatore Lo Snoopy 450 mila Fino ad oggi Penso di aver rollato Non male Che comunque Quanta che la Mi pare che fosse venuto Anche fuori Tipo che la paga 70 mila dollari All'anno Una roba del genere Anche 100k all'anno Tipo un stipendio Per rollare le canne Cioè Dai Assumi anche me A proposito di cannabis Bravi A proposito di cannabis In California Si sono lamentati Due Due consumatori Per pubblicità Incannevole Perché non gli faceva abbastanza Non gli stonava abbastanza Quindi sono andati A fare causa E hanno Hanno affidato Diciamo La ganja A un laboratorio Hanno fatto le analisi Ed effettivamente Aveva meno THC Di quello che dichiarava L'azienda Però vedi Sto discorso Che ti faccio Perché in America Tu puoi Da una parte Per il mio Diciamo Codice È una merda Dall'altra Però vedi Che tu puoi Pensa tu In Italia Che fai Non so Facciamo finta Che finisci In una causa Per una cosa seria E aspetti Anni così Invece in America Vedi che Possono contestare tutto Capito Cioè magari Veramente Che è una cazzata così E magari Prendono dei soldi Cioè vincono Capisci Da una parte fa paura Perché Uno ti può denunciare Da un momento all'altro Io ogni volta Accendo la cosa C'è sempre qualcuno Che ha denunciato Capito Sì Però è assurdo Tipo magari tu dici No là c'è scritto Acqua frizzante Non è abbastanza frizzante Vaffanculo Magari perdi E loro perdono Ti danno pure i soldi Capito Bisognerebbe fare L'analisi Di ogni prodotto Sì oppure Senti A volte leggi Quelle cose assurde Tipo c'è quello Che ha denunciato Apple Perché È una cosa assurda Non so Bisognerebbe iniziare Noi qua Iniziamo a denunciare Che le grosse multanze Cioè vediamo se riusciamo A vincere qualcosa A grattare anche sulle denunce A grattare anche lì Eh alla fine Questo ci rimarrà Va bene Ci rimarrà Solo questo Ah bella questa Sembra una fake news Ma hanno cacciato Un tipo Da un colloquio di lavoro Perché Aveva il pene Troppo grosso Sì ma diciamolo Cioè Parliamo Specifichiamo Ragazzo E ragazzo Ha Pene lungo Quanto Quanto Un avambraccio Quanto è E oltre E oltre E oltre Un avambraccio Vabbè quant'è Quanto è Eccoci qua Ecco così E vabbè Non so come fa A deambulare Prova tutto E Gio Si chiama Gio Ragazzo Non potete comunque Darci questi contenuti Quindi dobbiamo dire qualcosa Al content creator Perché Stimo questo Ad averlo letto prima No ma No ma Il grande Gio Prova Ci prova Poverino Dai Qua è body shaming Che nonostante tu ci provi Le mutande speciali Le braghe E tutto Entra in questo colloquio E Chi lo sta intervistando Pensa che abbia Un'erezione E lo manda via Questa è Questa è La storia Sai cosa stavo pensando Perché Tu pensa Sai tipo Quando Ci sono Magari Le donne Che hanno Un seno enorme Che appunto Diversamente però Possono avere problemi Quindi Nel loro caso Fanno un intervento chirurgico E lo riducono Lì non penso Tipo a ridurre Sai che non so Se ci siano operazioni Che riducano Come fa Il tipo Che c'ha L'avambraccio A ridurse Non ho idea Se lo chi è L'avambraccio Non sono Però la roba La hit qual è No che potrebbe Provare La hit è il programma No il programma Che non sapevo esistesse Che si chiama Il programma Qui ha raccontato Io non lo pronuncio Va bene Lo pronuncio io Il programma Qui ha raccontato tutto Che poi si occupa Anche di questi casi Si chiama Si chiama My massive cock Che io sinceramente Vorrei Io vorrei farlo in Italia Perché non c'è La mia minchia gigante La mia minchia gigante Scusa Perché no Lo proponiamo Lo proponiamo Lo scriviamo Lo scriviamo Lo scriviamo La mia minchia gigante Io non faccio il casting Però Chiamiamo No Troviamo dei ragazzi Che hanno problemi Di questo tipo Secondo me parlate Per fare un po' di awareness Su sta roba Che TV è? Ma lo facciamo Su realtà In Inghilterra? Non so Lo sapevo In inglese In inglese Olè Va bene Noi facciamo questo appello All'emittente Ai produttori Se qualcuno Se qualcuno ha voglia Di produrre Un programma del genere In cui parliamo Di questa cosa Ci sta Eccolo qua Perfetto Eccoci qua Poi Questo è il tuo Questo è pane Per i tuoi denti No perché Vuoi fare due frizioni No 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 Mimì Preparati Vado Bellissimo Allora Parlando sempre di notizie Un po' hot sexy C'è stato un piccolo Scandalo No? Ha creato scandalo La signorina Elisa Esposito Un saluto Alla signora del corsivo La tiktoker Che Vabbè appunto La conoscono in chat Immagino perché Amio queste robe Qui Non voglio tirarle fuori Onestamente Perché mi stanno Ampiamente Sui coglioni Ok? La signorina Non facendo abbastanza soldi Con tiktok Ha ben pensato Secondo me Di aprirsi Onlyfans Da un annetto Tutte però lo penso Quindi o non fanno tutte soldi Con tiktok Quelle che fanno veramente soldi Con tiktok Ma in realtà Si può fare soldi con tiktok Che poi ti devo chiedere Cioè io so Io so di Cioè Tra le varie cose Che Che ti fanno capire Che proprio hai perso il treno Della vita Ecco Ok È che Cioè mi hanno parlato Delle tiktok Che prendono veramente Tanti soldi Certo No non tanti Tantissimi Tantissimi soldi Cioè più di te anche Probabile Alcuni è probabile Più di me sicuro Quindi probabilmente Chi Cioè Come è fatto Non fare soldi con tiktok Che diventerà Con i brand Eh ma ho capito Ma la ragazza L'ho sempre vista È famosa È ripresa tutti i siti Eh ho capito Però Devi pensarci bene Alle scelte di vita Che fai Vabbè Arriviamo al dunque La signorina Dice che è distrutta Psicologicamente Dai commenti Dall'onlyfans Però tu dici Non aprirlo È sempre È sempre denigrata Dice E quindi Però chi si è obbligato A farlo No Nessuno l'ha obbligato A fare Cioè Quello è il punto Ok Cioè tu devi essere Apri una roba del genere Tu devi essere consapevole Di cosa stai facendo A cosa stai andando incontro Però guarda Io ti dico Io parlo per un amico Parlo per un amico Ok Sembra che lei Non faccia contenuti Oh Non lo so Questo No io per un amico Mi ha detto che Sono contenuti Abbastanza soft Quindi magari Il mio consiglio Che potrebbe provare Potrebbe ammalzare il tiro Magari così Almeno dici No perché Se ti distrugge psicologicamente Almeno però Ti ripaghi Magari prova Qual è la motivazione Allora a questo punto Se non fa Cose spinte Guarda ci penserò Tutta la notte Ci penserò Una settimana E poi Senza dormire mai E poi La prossima settimana Te lo dirò Ecco Perfetto Ci dispiace Ci dispiace Elisa No ci dispiace Ci siamo solidari Con tutte le Io Guarda Nel mio caso Sono una persona Che ha dato tanto A OnlyFans Quindi Da me Avete sicuramente Tutto Sono una persona Che ha supportato La piattaforma Mi vergogno No no È efficace Dici No non so se è efficace Nel mio caso Sono caduto a pesce Quindi io Ho supportato sicuramente Adesso non mi ricordo Se lei in particolare Ma ho supportato Tante content Tante content Ho fatto content Tante content No ma non capisco Di Sì Voglio chiudere sta roba Non capisco Allora Se è Contenuto soft Perché si prende la merda Non l'ho capita Perché comunque La gente È cattiva Capisci Probabile Ti è piaciuta Questa frase Sì Grande Alex dice Che lui è andato All'Astrico Ora è in strada Ma comunque Paga le content creator E imbianca la strada Perfetto Però In bianca come Con questo direi Che possiamo chiudere In bianca come Ciao a tutti Ci vediamo Alla prossima E vabbè Ero curioso Un attimo Ma una curiosità E trasmissione Riprenderemo Il più presto possibile Vabbè Bello Vabbè Arrivederci Ci siamo no Arrivederci 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 Così Chiusa così Vabbè Cosa Non farmi leggere Dai dai Incredibile Incredibile Cosa vuol dire Ma porca vacca Un saluto Se siamo ancora Se abbiamo staccato Non lo so Arrivederci Salve Salve Grazie a tutti.